Di Victor Hugo, I miserabili. Voce di Lorenzo Pieri. Parte quinta. Jean Valjean. Libro secondo. L'intestino del Leviatano. Capitolo primo. La terra impoverita dal mare. Parigi getta in acqua ogni anno 25 milioni. E questo fuor di metafora. Come? E in che modo? Giorno e notte. A quale scopo? Senza scopo alcuno. Con quale pensiero? Senza pensarci. Per che fare? Per nulla. Per mezzo di quale organo? Per mezzo del suo intestino? Qual è il suo intestino? È la sua fogna. 25 milioni. È la più moderata delle cifre approssimative fornite dalle valutazioni della scienza esatta. La scienza, dopo aver brancolato a lungo, sa oggi che il più fertilizzante e il più efficace dei concimi è il concime umano. I cinesi, diciamolo a nostro disdoro, lo sapevano prima di noi. Non c'è contadino cinese, è Heckerberg che lo dice, che andando in città non riporti a casa, appesi alle estremità del suo bambù, due secchi pieni di quelle che noi chiamiamo immondizie. Grazie al concime umano, la terra in Cina è ancora giovane come ai tempi di Abramo. Il frumento cinese rende fino a 120 volte la semenza. Non esiste alcun guano paragonabile per fertilità ai rifiuti di una capitale. Una grande città è la più possente delle stercorarie. Usare la città per concimare la campagna sarebbe un'idea di sicuro successo. Se il nostro oro è letame, in cambio il nostro letame è oro. E che si fa di questo oro letame? Lo si getta via. Noi inviamo con grandi spese convogli di navi al polo australe. Per raccogliere gli escrementi delle procellarie, dei pinguini e l'incalcolabile elemento di opulenza che abbiamo sotto mano, lo buttiamo in mare. Tutto il concime umano e animale che il mondo perde, reso alla terra invece di essere gettato in acqua, basterebbe a nutrire il mondo. Questi mucchi di sporcizie agli angoli delle strade, queste carrettate di fango sballottate la notte per le vie, queste spaventose tonnellate di immondizia, questi feti di scoli di melma sotterranea che il selciato vi nasconde. Sapete cosa sono? Sono il prato in fiore, sono l'erba verde, sono serpillo e timo e salvia, sono cacciagione, sono bestiame, sono il muggito soddisfatto dei mastodontici buoi la sera, sono fieno profumato, sono grano dorato, sono il pane sulla vostra tavola, sono il sangue caldo nelle vostre vene, sono la salute, la gioia, la vita. Così vuole quella creazione misteriosa che è la trasformazione in terra e la trasfigurazione in cielo. Rendete tutto questo al gran crogiolo, ne uscirà la vostra abbondanza. La nutrizione dei terreni fa il nutrimento degli uomini. Siete padroni di perdere questa ricchezza e di trovarmi ridicolo per soprammercato. Non sarà che il capolavoro della vostra ignoranza. La statistica ha calcolato che la sola Francia tributa ogni anno all'Atlantico, dalla foce dei suoi fiumi, un versamento di mezzo miliardo. Prendete nota, con questi 500 milioni si potrebbe pagare un quarto delle spese del bilancio. L'abilità dell'uomo è tale che egli preferisce sbarazzarsi di questi 500 milioni gettandoli nel rigagnolo. È la sostanza stessa del popolo che si portano via, qui, goccia, goccia, là, a fiotti, il miserabile vomito delle nostre fogne nei fiumi e il gigantesco vomito dei nostri fiumi nell'oceano. Ogni conato delle nostre cloache ci costa mille franchi. Con questi due risultati, la terra impoverita e l'acqua impestata, la fame che esce dal solco e la malattia che esce dal fiume. È noto, per esempio, che in questo momento il Tamigi avvelena Londra. Per quanto riguarda Parigi, si è dovuto in questi ultimi tempi trasferire a valle la maggior parte degli sbocchi fognari, al di là dell'ultimo ponte. Un doppio apparato tubolare, provvisto di valvole e di chiuse, aspirante e respingente, un sistema di drenaggio elementare, semplice come il polmone umano, che è già in piena funzione in diversi comuni d'Inghilterra, basterebbe a condurre nelle nostre città l'acqua pura dei campi e a rimandare nei campi l'acqua ricca delle città. E questo facile vai-vieni, il più semplice del mondo, tratterrebbe i 500 milioni buttati via. Si pensa ad altro. Il procedimento attuale fa il male volendo fare il bene. L'intenzione è buona, il risultato è triste. Si crede di espurgare la città, si indebolisce la popolazione. Una fogna è un malinteso. Quando dovunque il drenaggio, con la sua duplice funzione, restituendo ciò che prende, avrà sostituito la fogna, semplice lavaggio depauperante, allora, combinandosi tutto ciò con i dati di una economia sociale nuova, i prodotti della terra si decoplicheranno e il problema della miseria sarà singolarmente attenuato. Aggiungete la soppressione dei parassitismi e sarà risolto. Nel frattempo, la ricchezza pubblica se ne va nel fiume e ha luogo lo spreco. Spreco è la parola esatta. L'Europa si rovina così per esaurimento. Quanto alla Francia, abbiamo appena detto la cifra. Ora, contenendo Parigi il venticinquesimo della popolazione francese e il guano parigino essendo il più ricco di tutti, si rimane al di sotto della verità valutando a 25 milioni la parte di perdita di Parigi nel mezzo miliardo che la Francia rifiuta annualmente. Questi 25 milioni, impiegati in assistenza e in abbellimento, raddoppierebbero lo splendore di Parigi. La città li spende in cloache. Cosicché si può dire che la grande prodigalità di Parigi, la sua festa meravigliosa, la sua folie beaujean, la sua orgia, il suo dispendio d'oro a piene mani, il suo fasto, il suo lusso, la sua magnificenza, è la sua fogna. È in tal maniera che nella cecità di una cattiva economia politica si annega e si lascia andare in malora e perdersi negli abissi il benessere di tutti. Dovrebbero esserci delle reti di Saint-Claude per la fortuna pubblica. Economicamente, il fatto si può riassumere così. Parigi ha le mani bucate. Parigi, questa città modello, questa patrona delle capitali ben fatte di cui ciascun popolo cerca di avere una copia, questa metropoli dell'ideale, questa patria augusta dell'iniziativa, dell'impulso, del tentativo, questo centro e questa dimora delle intelligenze, questa città nazione, questo alveare dell'avvenire, questo meraviglioso miscuglio di Babilonia e di Corinto, dal punto di vista di cui abbiamo parlato, farebbe alzare le spalle a un contadino del Fouquien. Imitate Parigi e andrete in rovina. Del resto, particolarmente in questo spreco immemoriale e insensato, Parigi stessa imita. Queste sorprendenti insensatezze non sono nuove. Non si tratta di stupidità giovanile. Gli antichi agivano come i moderni. Le cloache di Roma, dice Liebig, hanno assorbito tutto il benessere del contadino romano. Quando la campagna di Roma fu rovinata dalla fogna romana, Roma esaurì l'Italia e quando ebbe messo l'Italia nella sua cloaca, vi riversò la Sicilia, poi la Sardegna, poi l'Africa. La fogna di Roma ha inghiottito il mondo. Quella cloaca offriva il suo risucchio alla città e all'universo, urbi et orbi. Città eterna, fogna insondabile. Per queste cose, come per altre, Roma dà l'esempio. Questo esempio Parigi lo segue, con tutta la bestialità propria delle città intelligenti. Per tutti i bisogni dell'operazione di cui parliamo, Parigi ha sotto di sé un'altra Parigi, una Parigi di fognature, la quale ha le sue vie, i suoi incroci, le sue piazze, i suoi vicoli ciechi, le sue arterie e la sua circolazione, che è della melma, meno la forma umana. Perché non si deve lusingare nessuno, neppure un grande popolo. Là dove c'è tutto, c'è l'ignominia accanto al sublime. E se Parigi contiene Atene, la città dei lumi, Tiro, la città della potenza, Sparta, la città della virtù, Ninive, la città dei prodigi, contiene anche Lutezia, la città di fango. Peraltro, anche qui c'è il marchio della sua potenza e la titanica sentina di Parigi realizza tra i monumenti quello strano ideale, realizzato nell'umanità da alcuni uomini come Machiavelli, Bacon e Mirabeau, il grandioso abbietto. Il sottosuolo di Parigi, se l'occhio potesse penetrarne la superficie, presenterebbe l'aspetto di una colossale madrepora. Una spugna non ha più pertugi e corridoi della zolla di terra di sei leghi di circonferenze, su cui posa l'antica grande città. Senza parlare delle catacombe che sono un sotterraneo a parte, senza parlare dell'inestricabile intreccio delle condotte del gas, senza contare il vasto sistema tubolare della distribuzione dell'acqua potabile che sgorga dalle fontane pubbliche. Le fognature, di per sé sole, formano sotto le due rive un prodigioso dedalo tenebroso, labirinto che ha per filo la sua pendenza. Qui appare nell'umida bruma il rapto che sembra il prodotto del parto di Parigi. Capitolo II Storia antica della fogna Se vi immaginate Parigi sollevata come un coperchio, la rete sotterranea delle fogne, vista a volo d'uccello, disegnerà sulle due rive una specie di grossa ramificazione innestata nel fiume. Sulla riva destra, la fognatura di circonvallazione sarà il tronco di questa branca. I condotti secondari saranno i rami e le condutture cieche saranno i ramoscelli. Questa figura è sommaria ed esatta solo per metà, l'angolo retto, che è l'angolo abituale di questo genere di ramificazioni sotterranee, essendo rarissimo nella vegetazione. Ci si farà un'idea più somigliante di questa strana pianta geometrica, supponendo di guardare dall'alto su uno sfondo di tenebre qualche bizzarro alfabeto d'Oriente ingarbugliato e confuso, le cui lettere deformi saranno saldate l'una all'altra, in un miscuglio apparente e come casuale, ora agli angoli, ora alle estremità. Le sentine e le fogne giocavano un ruolo importante nel Medioevo, nel Basso Impero e nell'Antico Oriente. La peste vi nasceva, i despoti vi morivano. Le folle guardavano quasi con timore religioso a quei letti di putredine, mostruose culle della morte. La fossa dei vermi di Benares non è meno vertiginosa della fossa dei leoni di Babilonia. Teglat-Falazar, a detta dei libri rabbinici, giurava sulla sentina di Ninive. Era dalla fogna di Minster che Giovanni d'Aleida faceva uscire la sua falsa luna ed era dal pozzo cloaca di Cachèb che il suo menekmo orientale, Mocannà, il profeta velato del Corasan, faceva uscire il suo falso sole. La storia degli uomini si riflette nella storia delle cloache. Le gemonie raccontavano Roma. La fogna di Parigi è stata una vecchia cosa formidabile, è stata sepolcro, è stata asilo. Il delitto, l'intelligenza, la protesta sociale, la libertà di coscienza, il pensiero, il furto, tutto ciò che le leggi umane perseguono o perseguivano si è nascosto in questo buco. I maillotin nel quattordicesimo secolo, i tirlin nel quindicesimo, gli ugonotti nel sedicesimo, gli illuminati di Morin nel diciassettesimo, gli chauffeurs nel diciottesimo. Cento anni or sono ne usciva la pugnalata notturna, il borsaiolo in pericolo vi si eclissava, la foresta aveva la caverna, Parigi aveva la fogna. La Troinderie, questa piccareria gallica, accettava la fogna come succursale della Corte dei Miracoli e la sera, beffarda e feroce, rientrava sotto il colatoio di Maubet come in un'alcova. Era naturale che coloro che avevano come luogo di lavoro quotidiano il vicolo cieco Vidgusset o la rue de Coupe Gorge avessero come domicilio notturno l'imbocco del chemin vert o la botola Hurpois, donde un formicolio di ricordi. Ogni sorta di fantasmi infestano questi lunghi corridoi solitari, dovunque la putredine e il miasma. Qua e là uno sfiatatoio dove Villon all'interno chiacchiera con Rabelais all'esterno. La fogna, nell'antica Parigi, è il luogo d'appuntamento di tutte le prostrazioni e di tutti i tentativi. L'economia politica vi vede un detrito, la filosofia sociale vi vede un residuo. La fogna è la coscienza della città. Tutto vi converge e vi si confronta. In questo luogo livido vi sono tenebre, ma non vi sono più segreti. Ogni cosa ha la sua vera forma o almeno la sua forma definitiva. Il mucchio di immondizie ha questo di bene, non è menzognero. Il candore si è rifugiato qui. Qui si trova anche la maschera di Basilio, ma se ne vede il cartone e le cordicelle e l'interno come l'esterno ed è accentuata da un onesto fango. Le sta accanto il naso falso di scapino. Tutte le sconcezze della civiltà, una volta fuori servizio, cadono in questa fossa di verità in cui finisce l'immenso smottamento sociale. Vi si inabissano, ma vi si sciorinano. Questo miscuglio è una confessione. Qui non esiste più una falsa apparenza. Non è più possibile alcuna imbellettatura. L'immondizia si toglie la camicia, denudamento assoluto, rotta delle illusioni e dei miraggi. Nient'altro che ciò che è, facendo la sinistra figura di ciò che finisce. Realtà è scomparsa. Qui un fondo di bottiglia confessa l'ubriachezza. Un manico di paniere racconta la domesticità. Là il torsolo di mela, che ha avuto opinioni letterarie, ridiventa un torsolo di mela. L'effigie della moneta si copre francamente di verde rame. Lo sputo di Caifa incontra il vomito di Falstaff. Il Luigi d'oro che esce dalla bisca urta il chiodo da cui pende la corda del suicida. Un feto livido rotola avvolto nei lustrini che hanno danzato l'ultimo martedì grasso all'Operà. Un tocco che ha giudicato gli uomini sprofonda accanto a un marciume che è stato la gonna di Margoton. È più di una fraternità, è una intimità. Tutto ciò che si truccava si smaschera. L'ultimo velo è strappato, una fogna, è cinica, dice tutto. Questa sincerità dell'immondizia ci piace e riposa l'anima. Quando si è passato il proprio tempo a subire sulla terra lo spettacolo delle grandi arie che si danno la ragione di Stato, il giuramento, la saggezza politica, la giustizia umana, le onestà professionali, le austerità della situazione, le toghe incorruttibili. È un sollievo entrare in una fogna e vedere il fango che vi convogliano. Inoltre insegna. L'abbiamo appena detto. La storia passa per la fogna. Le stragi di San Bartolomeo vi filtrano goccia a goccia attraverso il lastricato. I grandi assassini pubblici, i massacri politici e religiosi attraversano questo sotterraneo della civiltà e vi spingono i loro cadaveri. All'occhio del sognatore tutti gli omicidi storici sono lì, nella penombra orrenda, in ginocchio, con una falda del loro sudario come grembiule a cancellare lugubremente il loro operato. Luigi XI è lì con Tristan, Francesco I con Duprat, Carlo IX con sua madre, Richelieu con Luigi XIII, c'è Louvoix, c'è L'Etelier, ci sono Hebert e Maillard, grattando le pietre e cercando di far sparire la traccia delle loro azioni. Sotto le volte si sente la scopa di questi spettri. Vi si respira il fetore enorme delle catastrofi sociali, si vedono negli angoli luccichi rossastri. Vi cola un'acqua terribile in cui si sono lavate mani insanguinate. L'osservatore sociale deve entrare in queste ombre, esse fanno parte del suo laboratorio. La filosofia è il microscopio del pensiero, tutto vuole nascondersi ad essa ma nulla le sfugge. Tergiversare è inutile. Quale parte di sé si mostra tergiversando? La parte vergognosa. La filosofia insegue col suo sguardo probo il male e non gli permette di evadere nel nulla. Nella cancellazione delle cose che scompaiono, nel rimpicciolimento delle cose che svaniscono, essa riconosce tutto, ricostruisce la porpora dal cencio e la donna dallo straccio. Con la cloaca rifà la città, con il fango rifà i costumi, dal coccio deduce l'anfora o la brocca, riconosce dall'impronta di un'unghia su una pergamena la differenza che separa gli ebrei della Judengasse dagli ebrei del ghetto. Ritrova in ciò che resta ciò che è stato, il bene, il male, il falso, il vero, la macchia di sangue del palazzo, lo sgorbio d'inchiostro della caverna, la goccia di sego del lupanare, le prove subite, le tentazioni benvenute, le orge vomitate, la piega che hanno fatto i caratteri abbassandosi, la traccia della prostituzione negli animi, la cui grossolanità rendeva capaci di tanto, e sulla veste dei facchini di Roma, il segno della gomitata di Messalina. Capitolo terzo Brunezot Brunezot La fogna di Parigi nel Medioevo era leggendaria. Nel XVI secolo Enrico II tentò un sondaggio che abortì. Meno di cento anni fa la cloaca, lo testimonia Mercier, era abbandonata a se stessa e faceva ciò che poteva. Così era quell'antica Parigi dedita alle dispute, alle indecisioni e ai brancolamenti. fu a lungo piuttosto stupida. Più tardi, l'89 mostrò come le città diventano intelligenti, ma nel bel tempo andato la capitale aveva poca testa, non sapeva fare i suoi affari né moralmente né materialmente e non sapeva spazzar via le immondizie meglio degli abusi. La fogna, per esempio, era refrattaria a ogni itinerario. Non si riusciva più ad orientarsi nella rete fognaria come non si riusciva ad intendersi in città. In alto l'inintellegibile, in basso l'inestricabile. Sotto la confusione delle lingue c'era la confusione dei sotterranei. Dedalo duplicava Babele. Talvolta la fogna di Parigi si metteva a straripare come se quel nilo misconosciuto fosse colto da un accesso di collera. C'erano cosa infame inondazioni di acque nere. A tratti quello stomaco della civiltà digeriva male, la cloaca rifluiva nel gozzo della città e Parigi aveva il retrogusto della sua melma. Questa somiglianza della fogna con i rimorsi aveva un lato buono. Erano avvertimenti male accettati peraltro. La città si indignava che il proprio fango dimostrasse tanta audacia e non ammetteva che la sporcizia ritornasse sui suoi passi. Cacciate la via meglio! L'inondazione del 1802 è un ricordo ancora vivo nei parigini di 80 anni. La melma si espanse a croce in Place de Victoire dove c'è la statua di Luigi XIV. Entrò in rue Saint-Honoré dalle due bocche degli Champs-Élysées, in rue Saint-Florentin dalla fogna Saint-Florentin, in rue Pierre-Apoisson dalla fogna della Sonnerie, in rue Popincourt dalla fogna del Chamonvert, in rue de la Roquet dalla fogna della rue de l'Appe. Aprì il canaletto di scolo della rue des Champs-Élysées fino ad un'altezza di 35 centimetri e a mezzogiorno dallo sbocco della senna che funzionava in senso inverso penetrò in rue Mazarin, in rue de Les Chaudets e in rue des Marais dove si arrestò ad una estensione di 109 metri proprio a qualche passo dalla casa che aveva abitato Racine rispettando nel XVII secolo il poeta più che il re. Raggiunse il massimo di profondità in rue Saint-Pierre dove si innalzò a tre piedi sopra le lastre dello scarico e il massimo di estensione in rue Saint-Saban dove si diffuse su una lunghezza di 238 metri. All'inizio di questo secolo la fogna di Parigi era ancora un luogo misterioso. La melma non può mai essere ben famata ma qui la cattiva rinomanza si spingeva fino al terrore. Parigi sapeva confusamente di avere sotto di sé una cantina terribile. Se ne parlava come di quel mostruoso brago di Tebe dove formicolavano scolopendre lunghe 15 piedi e che avrebbero potuto servire da vasca da bagno a Behemoth. I grossi stivali dei fognaioli non si avventuravano mai al di là di certi punti conosciuti. Era ancora molto vicino all'epoca in cui i tombarelli dei netturbini dall'alto dei quali Saint-Fouin fraternizzava col marchese di Crecchi venivano semplicemente scaricati nella fogna. Quanto alla pulizia si affidava questa funzione ai temporali i quali ingombravano più di quanto spazzassero. Roma lasciava ancora un po' di poesia alla sua cloaca e la chiamava Gemonie. Parigi insultava la sua e la chiamava Troupine. La scienza e la superstizione erano d'accordo sull'orrore. Il Troupine non ripugnava meno all'igiene che alla leggenda. Il Mouambourou era nato sotto la fetida curvatura della fogna Mouffetard. I cadaveri dei Marmusette erano stati gettati nella fogna della Barillerie. Fagon aveva attribuito la terribile febbre maligna del 1685 alla grande soluzione di continuità della fogna del Marais che rimase spalancata fino al 1833 in Rue Saint-Louis quasi di fronte all'insegna del Messager Galant. Il tombino di Rue della Mortellerie era celebre per le pesti che ne uscivano con la sua griglia di ferro a punte che simulava una fila di denti era in quella via fatale come una gola di drago che alitava l'inferno sugli uomini. L'immaginazione popolare condiva il tetro acquaio parigino con non si sa quale orrendo miscuglio di infinito. La fogna era senza fondo. La fogna era il baratro. L'idea di esplorare quelle regioni lebrose non veniva neppure alla polizia tentare quell'ignoto gettare la sonda in quell'ombra andare all'avventura in quell'abisso chi l'avrebbe osato. Era spaventoso. Qualcuno tuttavia si presentò. La cloaca ebbe il suo Cristoforo Colombo. Un giorno nel 1805 in una di quelle rare apparizioni che l'imperatore faceva a Parigi il ministro dell'interno un decret o un creté qualsiasi venne ad assistere all'allevata del padrone. Nel caroussel si sentiva il clangore di sciabole di tutti quei soldati straordinari della grande repubblica e del grande impero. C'era saturazione di eroi alla porta di Napoleone uomini del Reno dell'Escault dell'Adige e del Nilo compagni di Joubert di Desais di Marceau di Osh di Kleber aerostieri di Fleureux granatieri di Magonza pontonieri di Genova ussari che le piramidi avevano guardato artiglieri che erano stati inzaccherati dalla palla del cannone di Junot corazzieri che avevano preso d'assalto la flotta all'Ancora nello Zieu d'Arzè gli uni avevano seguito a buona parte sul ponte di Lodi gli altri avevano accompagnato Murat nella trincea di Mantova gli altri avevano superato l'Anna nella strada incassata di Montebello tutta l'armata di allora era là nel cortile delle Tuierie rappresentata da una squadra o da un plotone a custodire il riposo di Napoleone ed era l'epoca splendida in cui la grande armata aveva dietro di sé Marengo e davanti a sé Austerlitz Sire disse il ministro dell'interno a Napoleone ieri ho visto l'uomo più intrepido del vostro impero chi è quest'uomo disse bruscamente l'imperatore e che cosa ha fatto vuole fare una cosa Sire cosa visitare le fogne di Parigi quell'uomo esisteva e si chiamava Brunezot Capitolo IV Particolari ignorati La visita ebbe luogo fu una campagna temibile una battaglia notturna contro la peste e la sfissia fu nel contempo un viaggio di scoperta uno dei sopravvissuti di quella esplorazione un operaio intelligente allora giovanissimo raccontava ancora qualche anno fa i curiosi dettagli che Brunezot ritenne di dover mettere nel suo rapporto al prefetto di polizia come indegni dello stile amministrativo i procedimenti di disinfezione erano all'epoca molto rudimentali appena Brunezot ebbe superato le prime articolazioni della rete sotterranea otto lavoratori su venti rifiutarono di andare oltre l'operazione era complicata la visita comportava la pulitura bisognava dunque ripulire e nello stesso tempo misurare notare gli ingressi d'acqua contare le griglie e i tombini dettagliare le ramificazioni indicare le correnti nei punti di spartiacque riconoscere le circoscrizioni rispettive dei diversi bacini sondare le piccole fogne in estate sulla fognatura principale misurare l'altezza al centro di ciascun corridoio e la larghezza tanto alla base della volta quanto a fior di platea infine determinare le ordinate di livellamento di ogni ingresso d'acqua sia della platea della fogna sia del suolo della strada si avanzava a fatica non era raro che le scale d'accesso si immergessero in tre piedi di melma le lanterne agonizzavano nei miasmi di tanto in tanto bisognava portare fuori un fognaiolo svenuto in certi punti precipizio il terreno aveva ceduto la pavimentazione era crollata la fogna si era mutata in un pozzo a perdere non si trovava più un punto d'appoggio un uomo scomparve bruscamente fu difficilissimo tirarlo fuori per consiglio di furcoa si accendevano a varie distanze nei punti sufficientemente bonificati grandi gabbie piene di stoppa imbevuta di resina la muratura in alcuni punti era coperta di funghi deformi sembravano tumori la pietra stessa sembrava malata in quell'ambiente irrespirabile Brunezot nella sua esplorazione procedette da monte a valle allo spartiacque delle due condotte del Gran Hurleur decifrò su una pietra gettante la data 1550 quella pietra indicava il limite cui si era arrestato Philibert Delorme incaricato da Enrico II di visitare lo scarico sotterraneo di Parigi quella pietra era il marchio del XVI secolo sulla fognatura Brunezot ritrovò la mano d'opera del XVII nel condotto del Ponceau e nel condotto delle Rue Vieille du Temple voltate tra il 1600 e il 1650 e la mano d'opera del XVIII nella sezione occidentale del canale collettore incassato e voltato nel 1740 quelle due volte soprattutto la meno antica quella del 1740 erano più consunte e più decrepite della muratura della fogna di circonvallazione che risaliva al 1412 epoca in cui il ruscello d'acqua pura di Menimoltant fu innalzato alla dignità di Gran Fogna di Parigi promozione analoga a quella di un contadino che diventasse primo valletto di camera del re qualcosa come Grosjean trasformato in Le Belle si credette di riconoscere qua e là soprattutto sotto il palazzo di giustizia gli alveoli di antiche carceri praticati nella fogna stessa orrendi in pace una gogna di ferro pendeva da una di quelle celle furono murate tutte certi ritrovamenti furono bizzarri tra l'altro lo scheletro di un orangotango scomparso dal Jardin de Plante nel 1800 scomparsa probabilmente connessa alla famosa e incontestabile apparizione del diavolo in Rue de Bernardin nell'ultimo anno del XVIII secolo il povero diavolo aveva finito per annegare nella fogna sotto il lungo corridoio centinato che sbocca nell'Arche Marion una gerla da stracci vendolo perfettamente conservata suscitò l'ammirazione dei conoscitori dovunque la melma che i fognaioli erano giunti a maneggiare intrepidamente abbondava di oggetti preziosi gioielli d'oro ed argento gemme monete un gigante che avesse filtrato quella cloaca si sarebbe trovato nel setaccio la ricchezza dei secoli allo spartiacque delle due diramazioni delle Rue du Temple e della Rue Saint-Avoix fu raccolta una singolare medaglia ugonotta in rame che recava su un lato un porco con un cappello da cardinale e sull'altro un lupo con la tiara in testa l'incontro più sorprendente fu all'ingresso della grande cloaca questo ingresso era stato un tempo chiuso da una griglia di cui non restano che i cardini da uno di quei cardini pendeva una sorta di cencio informe e sozzo che senza dubbio impigliatosi lì al passaggio vi fluttuava nell'ombra e finiva di lacerarsi Brunesot avvicinò la lanterna ed esaminò quel brandello era batista finissima e vi si distingueva in un angolo meno consunto del resto una corona araldica ricamata con sopra queste sette lettere L A V B E S P la corona era una corona marchionale e le sette lettere significavano Lob Sping riconobbero che quello che avevano sotto gli occhi era un lembo del lenzuolo funebre di Marat Marat in gioventù aveva avuto i suoi amori erano tempi in cui faceva parte della casa del conte d'Artois in qualità di medico delle scuderie di quegli amori storicamente constatati con una gran dama gli era rimasto quel lenzuolo relitto o ricordo alla sua morte poiché era l'unico capo di biancheria fine che avesse in casa ve lo avevano sepolto mani di vecchie avevano avvolto per la tomba in quel panno in cui aveva provato la volutà il tragico amico del popolo Bougoneseau passò oltre lo straccio fu lasciato dove era non fu gettato fu disprezzo o rispetto Marat meritava entrambi e poi il destino vi si era impresso abbastanza perché si esitasse a toccarlo del resto bisogna lasciare alle cose del sepolcro il posto che esse si scelgono insomma la reliquia era strana una marchesa vi aveva dormito ma vi si era imputridito essa aveva attraversato il panteon per finire fra i ratti della fogna quel cencio dal cova di cui Wotot un tempo disegnò gioiosamente tutte le pieghe aveva finito per essere degno dello sguardo fisso di Dante la visita totale dell'immondezzaio sotterraneo di Parigi durò sette anni dal 1805 al 1812 sempre camminando Bruneseau progettava dirigeva e portava a termine lavori considerevoli nel 1808 abbassava la platea del Ponceau e creando dovunque linee nuove spingeva la fognatura nel 1809 sotto la rue Saint-Denis fino alla fontana degli innocenti nel 1810 sotto la rue Fouadbanteau e sotto la Salpetriere nel 1811 sotto la rue Neve de Petit-Père sotto la rue du Malle sotto la rue delle Charpes sotto la Place Royale nel 1812 sotto la rue de la Paix e sotto la Chaussée d'Anton nel contempo faceva disinfettare e risanare tutta la rete dal secondo anno a Bruneseau si è raffiancato il genero Nargot fu così che all'inizio di questo secolo la vecchia società ripulì il suo doppio fondo e fece la toeletta alla sua fogna tortuosa screpolata disselciata crepata costellata di pantani tagliata da gomiti bizzarri piena di salite e discese illogiche fetida selvaggia truce immensa nell'oscurità il lastricato solcato da cicatrici e i muri da sfregi spaventevole tale era vista retrospettivamente l'antica fogna di Parigi ramificazioni in tutti i sensi incroci di trincee di ramazioni zampe d'oca stelle come negli scavi ossidionali corridoi ciechi volte coperte di salnitro smaltitoi infetti trasudazioni squamose sulle pareti gocce cadenti dai soffitti tenebre nulla eguagliava all'orrore di quella vecchia cripta di scarico apparato digestivo di Babilonia antro fossa abisso traforato di vie tana titanica in cui la mente crede di veder vagare attraverso l'ombra nella spazzatura che è stata splendore quell'enorme talpa cieca il passato questa lo ripetiamo era la fogna di ieri capitolo quinto progresso attuale oggi la fogna è pulita fredda diritta corretta realizza quasi l'ideale di ciò che si intende in Inghilterra con la parola respectable è decorosa e grigiastra tirata a squadra si potrebbe quasi dire che è in Ghingeri somiglia ad un fornitore divenuto consigliere di stato ci si vede quasi bene la melma si comporta decentemente di primo acchito si potrebbe prenderla facilmente per uno di quei passaggi sotterranei così comuni un tempo e così utili alle fughe di monarchi e principi in quel bel tempo andato in cui il popolo amava i suoi re la fogna attuale è una bella fogna lo stile puro vi regna il classico alessandrino rettilineo che cacciato dalla poesia sembra essersi rifugiato nell'architettura pare mescolato a tutte le pietre di questa lunga volta tenebrosa e biancastra ogni scarico è un'arcata la rue de Rivoli fa scuola fin nella cloaca del resto se la linea geometrica è al suo posto da qualche parte lo è a colpo sicuro nella trincea stercoraria di una grande città qui tutto deve essere subordinato al cammino più breve la fogna ha assunto oggi un certo aspetto ufficiale i rapporti stessi della polizia di cui è talvolta oggetto non le mancano più di rispetto le parole che la caratterizzano nel linguaggio amministrativo sono elevate e degne ciò che si chiamava budello ora si chiama galleria ciò che si chiamava buco ora si chiama pozzetto villon non riconoscerebbe più il suo antico rifugio questa rete di sotterranei ha ben sempre la sua immemorabile popolazione di erroditori più pullulante che mai di tanto in tanto un ratto un astuto veterano rischia la testa alla finestra della fogna ed esamina i parigini ma perfino questa canaglia si ammansisce soddisfatta com'è del suo palazzo sotterraneo la cloaca non ha più nulla della sua ferocia primitiva la pioggia che insozzava la fogna di un tempo lava la fogna di oggi tuttavia non fidatevi troppo i miasmi l'abitano ancora è piuttosto ipocrita che irreprensibile la prefettura di polizia e la commissione sanitaria hanno un bel da fare a dispetto di tutti i procedimenti di risanamento essa esala un vago odore sospetto come tartufo dopo la confessione conveniamone come tutto sommato il lavaggio è un omaggio che la fogna rende alla civiltà e come da questo punto di vista la coscienza di tartufo è un progresso rispetto alle stalle di Augia è certo che la fogna di Parigi è migliorata è più di un progresso è una trasmutazione tra la fogna antica e la fogna attuale c'è una rivoluzione chi ha fatto questa rivoluzione l'uomo che tutti dimenticano e che noi abbiamo nominato Druneseau capitolo 6 progresso futuro lo scavo della fognatura di Parigi non è stato compiuto da poco i dieci ultimi secoli vi hanno posto mano senza riuscire a terminarlo come non hanno potuto finire Parigi la fogna infatti riceve tutti i contraccolpi della crescita di Parigi è nella terra una sorta di polipo tenebroso dai mille tentacoli che cresce sotto insieme alla città che cresce sopra ogni volta che la città traccia una strada la fognatura allunga un braccio la vecchia monarchia non aveva costruito che 23.300 metri di fognatura Parigi era a questo punto il primo gennaio 1806 a partire da quest'epoca di cui riparleremo subito l'opera è stata utilmente ed energicamente ripresa e continuata Napoleone ha costruito queste cifre sono curiose 4.804 metri Luigi XIII 5.709 Carlo X 10.836 Luigi Filippo 89.020 la Repubblica del 1848 23.381 il regime attuale 70.500 in tutto in questo momento 226.610 metri 60 leghe di fognature visceri enormi di Parigi ramificazione oscura sempre in lavorazione costruzione ignorata e immensa come si vede il dedalo sotterraneo di Parigi è oggi più che decuplicato rispetto all'inizio del secolo è difficile immaginarsi quanta perseveranza e quanti sforzi ci sono voluti per condurre quella cloaca al punto di relativa perfezione in cui si trova solo a gran fatica la vecchia prevostura monarchica e negli ultimi dieci anni del diciottesimo secolo la municipalità rivoluzionaria erano riuscite a forare le 500 leghe di fognature che esistevano prima del 1806 ostacoli d'ogni genere intralciavano questa operazione gli uni attinenti alla natura del suolo gli altri inerenti ai pregiudizi stessi della popolazione laboriosa di Parigi Parigi è costruita su un terreno stranamente ribelle alla zappa al piccone alla sonda alla manipolazione umana nulla di più difficile da traforare e penetrare di quella formazione geologica cui si sovrappone la meravigliosa formazione storica chiamata Parigi appena sotto qualsiasi forma il lavoro si impegna e si avventura in questa nappa alluvionale le resistenze sotterranee abbondano sono argille liquide sorgenti rocce dure fanghi molli e profondi che la scienza esatta chiama mostarde il piccone avanza faticosamente fra le lame calcare alternate a filetti di crete sottilissime e a strati scistosi dalle foglie incrostate di scaglie d'ostriche contemporanee agli oceani preadamiti talvolta un ruscello crepa bruscamente una volta iniziata e inonda i lavoratori o è un getto di marna che si apre la strada e piomba con la forza di una cataratta spezzando come vetro le più grosse travi di sostegno recentemente alla villette quando si doveva senza interrompere la navigazione senza vuotare il canale far passare il collettore sotto il canale san martin formatasi una fessura nel letto del canale l'acqua ha invaso improvvisamente il cantiere sotterraneo al di là di tutta la potenza delle pompe di svuotamento si dovette mandare un palombaro a cercare la fessura che era nell'imboccatura del gran bacino e che non fu tamponata se non con grande fatica altrove presso la senna e anche piuttosto lontano dal fiume come per esempio a Belleville Grand Rue e Passaggio Lunière si trovano sabbie senza fondo dove si sprofonda e dove un uomo può scomparire a vista d'occhio aggiungete l'asfissia causata dai miasmi i seppellimenti causati dagli smottamenti i crolli improvvisi aggiungete il tifo di cui gli operai si impregnano lentamente ai nostri giorni dopo aver scavato la galleria di Clichy con banchina per ricevere una condotta principale d'acqua dell'Urc lavoro eseguito in trincea a dieci metri di profondità dopo avere tra gli smottamenti con l'aiuto di scavi spesso putridi e di sondaggi voltato la bière dal boulevard dell'hôpital fino alla Senna dopo avere per liberare Parigi dalle acque torrenziali di Montmartre e per dar flusso a quel pantano fluviale di nove ettari che imputridiva presso la barriera dei Martyr dopo avere dicevamo costruito il tracciato fognario dalla barriera Blanche alla strada di Obervillet in quattro mesi giorno e notte a una profondità di undici metri dopo avere cosa che non si era mai vista eseguito sotterraneamente una fogna in rue Bardubec senza trincea a sei metri sotto il livello del terreno il capo cantiere Monnot è morto dopo aver voltato 3000 metri di fognatura in tutti gli angoli della città dalla rue traversière Saint Antoine alla rue de l'Ursan dopo avere con la diramazione dell'arbalette liberato dalle inondazioni pluviali l'incrocio Saint-Sie-Mouffetard dopo aver costruito la fogna Saint-Georges su fondazioni di pietra e cemento in sabbie fluide dopo aver diretto il pericoloso abbassamento della platea della diramazione Notre-Dame de Nazareth l'ingegnere Dulot è morto non esiste un bollettino per questi atti di coraggio più utili tuttavia del massacro idiota dei campi di battaglia le fogne di Parigi nel 1832 erano lungi dall'essere ciò che sono oggi Brunezot aveva dato l'avvio ma ci volle il colera per determinare la vasta ricostruzione che ha avuto luogo in seguito per esempio è sorprendente che nel 1821 una parte della fogna di circonvallazione detta Gran Canale come a Venezia imputridisse ancora a cielo aperto in Rue de Goude fu solo nel 1823 che la città di Parigi trovò nel suo borsellino i 266.080 franchi e 6 centesimi necessari alla copertura di quella torpitudine i tre pozzi assorbenti del combat della chunette di Saint-Mandé con i loro spurghi i loro apparati i loro smaltitoi e le loro diramazioni depuratorie non risalgono che al 1836 la rete intestinale di Parigi è stata rimessa a nuovo e come abbiamo detto più che decuplicata a partire da un quarto di secolo fa 30 anni or sono all'epoca dell'insurrezione del 5 e 6 giugno era ancora in molti punti pressoché l'antica fogna un grandissimo numero di strade oggi rese e convesse erano allora carreggiate e dissestate si vedevano spesso nei punti in cui terminava il declivio di una strada larghe griglie quadrate dalle grosse sbarre il cui ferro luccicava forbito dai passi della folla pericolose e scivolose per le vetture trappole per i cavalli la lingua ufficiale dell'ingegneria civile dava a quelle griglie il nome espressivo di scolo nel 1832 in una quantità di vie rue de l'Etoile rue Saint-Louis rue du Temple rue Vieille du Temple rue Notre-Dame de Nazareth rue Folie-Méricourt Quai aux Fleurs rue du Petit-Mousque rue de Normandie rue Pont-au-Biche rue des Marais Faubourg-Saint-Martin rue Notre-Dame de Victoire Faubourg-Montmattre rue Grange-Batellière Alli-Chance-Elysée rue Jacob rue de Tourneau la vecchia cloaca gothica mostrava ancora cinicamente le suegole erano enormi bocche di pietra talvolta circondate da paracarri con una sfrontatezza monumentale Parigi nel 1806 era ancora quasi alla cifra constatata per le fogne nel maggio 1663 5.328 tese dopo Brunezot il primo gennaio 1832 ne aveva 40.300 metri dal 1806 al 1831 erano stati costruiti annualmente in media 750 metri poi sono stati costruiti ogni anno 8 e anche 10.000 metri di gallerie in muratura a bagno di calce idraulica su fondazioni di cemento a 200 franchi al metro le 60 leghe di fognature della Parigi attuale rappresentano 48 milioni oltre al progresso economico di cui abbiamo parlato all'inizio gravi problemi di igiene pubblica si collegano a questa immensa questione la fogna di Parigi Parigi si trova fra due strati uno strato d'acqua e uno strato d'aria lo strato d'acqua che giace ad un'enorme profondità sotterranea ma già toccata da due perforazioni è fornito dalla falda di arenaria verde situata tra il gesso e il calcare giurassico questa falda può essere rappresentata da un disco di 25 leghe di raggio una quantità di fiumi e di torrenti vi trasudano in un bicchier d'acqua del pozzo di Grenelle beviamo la Senna la Marna Lyon l'Oise l'Esne il Cher la Vienne e la Loira lo strato d'acqua è salubre viene prima dal cielo e poi dalla terra lo strato d'aria è malsano viene dalla fogna tutti i miasmi della cloaca si mescolano alla respirazione della città d'onde quell'alito cattivo l'aria prelevata sopra una concimaia è stato scientificamente constatato è più pura dell'aria prelevata sopra Parigi in un tempo dato con l'aiuto del progresso con il perfezionamento dei meccanismi e con il diffondersi dell'intelligenza si userà lo strato d'acqua per purificare lo strato d'aria vale a dire per lavare la fogna si sa che per lavaggio della fogna noi intendiamo restituzione della melma alla terra rinvio del concime al suolo e dell'etame ai campi si avrà con questo semplice fatto per tutta la comunità sociale diminuzione della miseria e aumento della sanità nel momento attuale l'irradiamento delle malattie di Parigi si spinge a 50 leghe attorno all'Uvra considerato come mozzo di questa ruota pestilenziale si potrebbe dire che da dieci secoli la cloaca è la malattia di Parigi la fogna è il vizio che la città ha nel sangue l'istinto popolare non si è mai sbagliato in proposito il mestiere di fognaiolo era un tempo per il popolo quasi altrettanto pericoloso e quasi altrettanto ripugnante del mestiere di macellatore oggetto d'orrore e per lungo tempo abbandonato al boia ci voleva una ricompensa elevata per decidere un muratore a sparire in quello scavo fetido la scala dello scavapozzi esitava ad immergervisi si diceva proverbialmente scendere nella fogna è entrare nella fossa e ogni sorta di leggende abominevoli l'abbiamo detto copriva di spavento quell'acquaio colossale sentina temuta che porta le tracce delle rivoluzioni del globo come delle rivoluzioni degli uomini e in cui si trovano le vestigia di tutti i cataclismi dai molluschi del diluvio al cencio di Marat di Marat di Marat di Marat